Scrivi l'equazione della circonferenza passante per l'origine e aventi il centro nel punto di ordinata 2 della retta di equazione y uguale 3x-4. Adesso il secondo problema riguardante questo argomento di cui stiamo parlando, ovvero la determinazione dell'equazione della circonferenza note, determinate informazioni in particolare, note le coordinate del centro e un punto per cui passa. Uno può dire che non è questo che il problema ci dice, in realtà il problema non ci dà il centro e il punto, ma ci dà il punto per cui passa, ovvero l'origine 0,0, che vi ricordo ci consente di determinare un'informazione. E poi ci dice che il centro, attenzione, avendo il centro nel punto di ordinata 2 della retta di equazione y uguale 3x-4. Dunque, quindi il centro ha sicuramente ordinata 2 e ci manca la scissa. Ma chi è la scissa? Beh, la scissa x con 0. Per determinarla basta sostituirla nell'equazione di quella retta, nella quale l'ordinata l'abbiamo è 2 uguale 3x-4. Cioè, 3x lo lasciamo a destra, meno 4 lo portiamo a sinistra, diventa 4 più 2, 6. E dividendo per 3, x è 6 terzi, ovvero x uguale 2. 2 e 2 sono le coordinate del centro. A questo punto, note il centro e il raggio, possiamo fare in due modi. O determiniamo cp, ovvero la distanza di c da p, e il raggio. A quel punto, note il centro e il raggio, abbiamo finito. Oppure, visto che stiamo risolvendo questo problema con queste condizioni, possiamo dire che, come adesso scriviamoci il nostro sistema, vi ricordo che l'equazione cartesiana di una circonferenza generale è x quadro più y quadro più ax più by più c uguale 0. Questo è uno dei due modi, nel particolare dei video ve l'ho fatti vedere entrambi. Il quadro, più y quadro più ax più by più c, le incognite, come potete vedere, sono a, b e c. Dunque, di sicuro sappiamo che meno a mezzi, ovvero l'ascissa del centro, è pari a 2. Meno b mezzi, ovvero l'ascissa dell'ordinario del centro, vi lo scusa, è pari nuovamente a 2. Vedete che sia l'ascissa che l'ordinario del centro sono 2. E il passaggio per il punto, beh, se 0, 0 è un punto per cui passa la circonferenza, abbiamo che 0 al quadrato è 0, più 0 al quadrato è 0, abbiamo più a per 0 è 0, b per 0 è 0, ci rimane che c uguale 0. Quando la circonferenza passa per l'origine, che ce lo ricordiamo, abbiamo visto, quando abbiamo spiegato alcune cose importanti, la circonferenza ha c, il terzo coefficiente, è nullo. A questo punto abbiamo finito, perché vedete che meno a mezzi uguale 2, moltiplicando per meno 2, entrambi i membri di un'equazione viene che a è uguale a meno 4. Questo perché ho scritto uguale. A uguale a meno 4. Nel senso stesso discorso, nella seconda equazione, moltiplicando entrambi i membri per meno 2, b uguale a meno 4. E c uguale a 0. Sostituendo lì, chi è l'equazione cartesiana richiesta della circonferenza? E x quadro, y quadro, meno 4x, meno 4x uguale a 0. Ed è proprio questa che ci chiedevano. In alternativa, a questo modo, visto che il video è molto breve, potevamo, noto il centro, calcolarci CO, in questo caso, la distanza fra CO, e questo sappiamo essere il raggio, ovviamente, no? Se uniamo CO otteniamo il raggio. Chi è CO? Sarà 2 meno 0 al quadrato, ovvero 4, più 2 meno 0 al quadrato, ovvero 2 al quadrato 4. La radice di 8 sappiamo essere anche scrivibile come 2 radici di 2. Quindi dobbiamo che centro è 2, 2. Il raggio è la radice di 8, o anche 2 radici di 2. E quindi a questo punto, molto velocemente, chi è l'equazione della circonferenza? Lo possiamo scrivere in questo modo. Lo possiamo scrivere come x meno alfa al quadrato più y meno beta al quadrato uguale a r al quadrato, dove alfa è 2, ascissa del centro, beta è sempre 2, ordinata del centro, uguale a 8, che sarebbe radici di 8 al quadrato, r al quadrato. Sviluppiamo il quadrato e abbiamo finito. Adatteremo quello, guardate. x quadro più y quadro più 4 più 4 meno 4x meno 4y sono i due, i due prodotti. Se ne vanno 4 più 4 è 8, e 8 dall'altra parte per la regola cancellazione, otteniamo x quadro più y quadro proprio meno 4x meno 4y uguale a 0, l'equazione della circonferenza richiesta.